ci sono un paio di progetti ragazzi veramente bomba ma ce li guardiamo dopo la sigla e allora ciao a tutti ragazzi bentornati e bentornate qui su due pazzi per i lego un saluto da roberto e da jody jody che sta registrando altri video sapete che quando ci sono un sacco di novità ci smezziamo un attimino al lavoro e quindi un po io un po lui ma non siamo qui a sapere i fattacci nostri siamo qui perché oggi vediamo le novità i progetti più popolari quelli più in voga quelli più fighi ma dopo 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 cosa dopo che come sempre vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social perché sapete che solo per essere iscritti a tutti i nostri canali social potete partecipare all'estrazione dei giveaway mensili vi regaliamo i lego e qui c'è il link in descrizione per poter partecipare a queste estrazioni così facile facile ma dove li compriamo noi lego che regaliamo voi li compriamo qua sbada banda big man un negozio fisico di torino ma soprattutto online porta misere devo sempre abbassarmi che ci sponsorizza questi video e che vi regala il 10 per cento di sconto sempre col codice che trovate qui in descrizione quindi andate a farci un giro lego action figures più chi più più chi più 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 ne ha e più ne metta quindi salutiamo big man un salutiamo e ringraziamo signori cosa vi ho detto andiamo a vedere per i progetti più popolari in voga attualmente su lego ideas è un po' che non li guardiamo è un po' che siamo assenti dal portale anche perché li guardiamo in live anche con me non li ho guardati so che ce n'è un paio però gli altri li scopriamo insieme non perdiamo troppo tempo allora questo è lo staff pick perché non ci segue lo spiego molto velocemente lego ideas prende un progetto e lo sponsorizza mettendolo così in prima pagina non è il più popolare è solo un regalo che sceglie così con criteri che ancora non abbiamo ben capito e lo sbatte lì per dargli un po' più di visualizzazione carina però noi guardiamo il resto e signori tenetevi forte perché in prima posizione c'è fantozzi non è uno scherzo ragazzi non è uno scherzo un astronauta che è un ragazzo di genova ha riproposto cioè ha ricreato la fantastica famosissima scena nella quale fantozzi prende l'autobus al volo cioè fantozzi ragazzi non sto neanche qui a spiegarvelo e vuoi la magnificenza del progetto vuoi il clamore che ha fatto nell'ambiente legoso italiano vuoi che tantissimi giornali soprattutto della loro zona l'hanno ripreso e sponsorizzato guardate qua siamo già a 3556 voti in neanche una settimana quindi bomba clamorosa ragazzi andate su lego ideas e supportatela supportatela perché uno è una figata pazzesca due teniamo alta la bandiera italiana adesso mi perdonerà mi sfugge il nome gaff clamorosa però un astronauta andate a votarla anzi sapete cosa faccio guardate siccome non era ancora entrato lo votiamo support ok fatto votata siamo diventato supporter perfetto era doveroso doveroso infatti qua sopra è spuntato supporting un altro progetto che dobbiamo andare a supportare e ragazzi prima in classifica un italiano secondo in classifica un altro italiano il teatro natalizio guardate qua e chi se non il super mega più esponente esponenziale del winter village se non tommaso ok tommaso poteva creare questa meraviglia andiamo prima di tutto a supportarlo questo me lo son tenuto perché 1645 il voto che gli diamo ma ce lo andiamo a guardare ragazzi bellissima idea c'è questo teatro natalizio con tutto il pubblico che poi starà qua fuori tommaso non ha potuto proporre questo è un retroscena che io so mi ha spiegato non ha potuto proporre tutto il pubblico davanti perché leggo gli ha detto c'erano troppe minifigure e quindi troppe minifigure non andava bene e allora le ha tolte però lì davanti ci sono tutte le minifigure che guardano il teatro in piazza natalizia e tu puoi andare a cambiare la scena del teatro quindi in questo caso c'è uno pseudo schiaccianoci il balletto ma tu come qui si vede puoi andare a portare un coro che canta piuttosto che altri temi natalizi ma ma non comunque altre cose teatrali bellissima l'idea del cambio scena tra l'altro tommy spettacolare costruttore perché guardate la cura e poi questo stile veramente suo natalizio inside vedete qui si toglie la scena lateralmente e si inserisce quella nuova c'è un chioschetto immancabile bellissimo con i dolci con da bere le cose calde qui c'è la scena per esempio del coro della banda che suona vedete che qui si intravedono un po di test del pubblico le ha lasciate hai fatto bene tommy questo è il progetto un po completo con questi bellissimi alberi innevati stupendo veramente questo un po quello da sopra guardate la cupola come l'ha fatta veramente veramente complimenti tommy andate a votare qui sotto link di lego ideas mi raccomando sempre per lo stesso motivo di prima progetto stupendo e italianità allo stato puro portiamola a billund quindi dopo fantozzi dopo christmas theater teatro di natale passiamo a ciò che sta scombusolando un attimo il mondo lego ideas ovvero questa cacchio di lover house tratta da un videoclip di una canzone di taylor swift perché dico che sta scombusolando un po il mondo di lego ideas perché ci sono 48 progetti c'è stato un post nella quale lego ha detto perché non la ricreate bene metà mondo l'ha ricreata e l'ha buttata su il problema è che c'è il problema la prima è arrivata a 10.000 in tre giorni si vede che tutti i fan di taylor swift l'hanno buttata è arrivata la seconda eccola qua e siamo a 2956 tra l'altro la prima neanche sta gran che bella proprio basica basica quasi rasentava l'orribilanza questa un po più curata ma la vedete voi non è finita perché ce ne saranno altri abbiamo questo bellissimo quadro questa bellissima scena di questa balena e questo sub pesci insomma il sotto del mare è molto molto particolare molto carina molto bella molto particolare sta riscuotendo abbastanza successo il giusto perché si deve premiare oltre che alla realizzazione che è molto bella anche questi colori abbinati molto bene secondo me anche l'idea è da premiare quindi 4.707 voti si sta avvicinando secondo me ai 10.000 e ci arriverà Shrek il rifugio di Shrek è un progetto che non è la prima volta che vediamo su Lego Ideas riproposto da vari designer in varie salse parere mio un po' troppo cupo questo va bene che i colori della palude non è che possono essere fucsia fosforescente con i fuochi d'artificio azzurri ma insomma potevo usare dei marroni un po' più vivaci del verde un po' più vivace resta il fatto che è un'idea che mi piace molto ha ricreato questi personaggi vedete il gatto con gli stivali è re come si chiama non mi ricordo poi vabbè pandizenzero Shrek Fiona Ciuchino che è un cane però l'ha ricreato fatto che sia un asinello bello bello dai l'idea è molto carina se vi piace sapete dove andare a votarla 3.430 voti abbiamo Bricky Bricks che torna alla grande con un progetto che aveva già raggiunto i 10.000 l'ha sistemato un pochino e abbiamo di nuovo il Klaus Toys quindi negozi di giocattoli con questo modulare Bricky Bricks è grandissimo costruttore ormai famosissimo su Lego Ideas è arrivato ai 10.000 un sacco di volte con tutti questi modulari lui ha questo stile molto dentro i suoi binari sarà difficile come dico sempre che un suo progetto venga prodotto perché i modulari sappiamo essere un po' priorità di Lego mai nessun modulare è stato prodotto su Lego Ideas lasciate stare il vecchio negozio del pescatore non è modulare lasciate stare la bellissima A-frame cabin di Andrea non è modulare eccetera eccetera tutto ciò che è comunque costruzioni non sono modulari questo è effettivamente modulare quindi non lo so però comunque se lo volete portare ai 10.000 Bricky Bricks andate su Lego Ideas progetto appena presentato poi queste cose mi colgono un po' di sorpresa non l'avevo vista non so neanche di che cosa si tratta scrivetemi qui in descrizione ragazzi se sapete c'è scritto saga quindi potrebbe essere una serie tv un libro un film aiutatemi ragazzi scrivete qui nei commenti di che cosa si tratta non conoscendo il tema valuto un attimo l'estetica va bene mi può andare bene mi perdonerà l'autore ma non conosco e non posso apprezzare eccone qui un'altra l'overhouse di Taylor Swift è la seconda che vediamo questa probabilmente è quella ricreata meglio ha fatto anche le minifigure ha fatto la casa che si diciamo smonta modulare ha creato delle stanze arredate veramente bene insomma questo tra tutti quelli che sono arrivati che stanno arrivando è probabilmente quello che merita assolutamente di più di passare però ecco è già il secondo anzi facciamo che già il terzo perché uno è già arrivato a 10.000 terzo ed è a 1200 dopodiché abbiamo portal 2 il portal gun quindi riproduzioni di questa arma ok molto molto figa molto molto bella per gli appassionati sicuramente è una cosa che farebbe piacere avere a casa sul proprio comodino non ci perderei troppo tempo fatto molto bene portal gun eccola qui quarta quarta l'overhouse di Taylor Swift minifigure anche qui arredata sì carina vabbè ci dobbiamo perdere tempo ragazzi via dai via andiamo avanti il Minas Tirith uno degli ennesimi Minas Tirith che troviamo sulle Guedeas direi di passare oltre non dovremmo cioè se volete votarlo votatelo giustamente se piace va votato io però non ci perdo troppo tempo abbiamo la centrale elettrica idro elettrica molto bella ovviamente io devo dire un giudizio mio personale su quello che potrebbe essere un'eventuale produzione alquanto difficile ma molto molto bella realizzata molto bene definita in maniera eccelsa complimenti all'autore se volete votarla link in descrizione bravo bravo molto bello molto bello io ragazzi poi non apro tutti i progetti perché potrei perdere veramente le ore non voglio fare un video troppo lungo che poi diventa un po' palloso se siete incuriositi da qualche progetto andate e ve lo gustate tutto oltre che a votarlo ovviamente il negozio di Natale bavarese un po' confusionaria questa foto di copertina si intraccapisce c'è poco però vabbè adesso è il periodo in cui saltano fuori tutti i progetti un po' natalizi abbiamo visto il teatro di Natale di Tommy abbiamo visto il Klaus Toys di Bricky Bricks e c'è anche questo negozio di Natale bavarese andiamo avanti siamo quasi alla fine Bricky Bricks altro progetto di 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 vedi sopra questa volta sempre per lo stile suo ho ricreato la stazione del bus con questo stile molto molto bello molto molto bella anche qui la vedo difficile è un'implementazione di diorama è un'implementazione della city automezzi resta il fatto che è fatto veramente bene però Bricky Bricks prova a proporre questa stazione centrale dei bus vediamo vediamo come gli va ragazzi 643 voti portiamolo se vi piace eccolo qui 30 anni dalla cosa dice l'anniversario della sfera del globo di neve ok perché non lo so l'anniversario del globo di neve non lo so cioè cos'è il primo globo con la neve è stato inventato 30 anni fa boh vabbè ragazzi anche qui commenti in descrizione commentate aiutatemi io vi chiedo scusa se pecco su queste informazioni simpatico carino nulla più onestamente non mi sentirei di consigliarvi di strapparvi i cappelli insomma per questo progetto poi abbiamo castor troi con la sua lampada led da notte l'ha già editata un paio di volte sta andando molto bene secondo me arriverà tranquillamente i 10.000 e poi staremo a vedere molto molto insomma un po' dark secondo me con questo nero questi colori che poi rappresentano benissimo ciò che deve rappresentare lo stile gli anni però vabbè io non me lo comprerei va bene 6.400 ci arriva tranquillo l'armadio di Narnia ragazzi idea fighissima idea fighissima realizzazione anche molto molto bella si apre io l'ho visto dentro fatto veramente bene sapete che siamo qua ad analizzare un po' soggettivamente il tutto quello che vediamo a me piace molto piace molto l'idea piace molto il tema piace molto la realizzazione sistemato da Lego questo è potenzialmente una bomba clamorosa per me potenzialmente è una bomba clamorosa andiamo avanti il camaleonte carino dai non perdiamo troppo tempo è simpatico chi di voi vuole un camaleonte sulla sua scrivania può tranquillamente votarlo 940 aiutiamolo poi la jet car che si trasforma di man in black bella eh gran lavoraccio qui eh bisogna dire gran lavoraccio poi bisogna vedere se effettivamente tutti questi spostamenti sono realmente applicabili però gran lavoro gran lavoro signori io finirei con l'arboreto autunnale questo modulare in stile green molto bello se volete guardarlo aprite perché poi vedete l'albero all'interno dell'edificio veramente un'idea molto bella una realizzazione anche lei fatta molto bene quindi vi consiglio di andare a dargli un occhio perché merita perché merita io non oserei più di questo tornerei bellamente qua per ringraziarvi come sempre di essere stati qui in nostra compagnia spero che la visione di questi progetti vi sia stata vi sia gradita sia stata come si può dire spero la rifaccio spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo video vi sia piaciuto spero che a qualcuno magari abbia dato ispirazione o abbia fatto partire apparire la famosa lampadina per qualche idea per qualche realizzazione nuova per tutto il resto ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.